Tutti voi, se avete conservato il numero che vi abbiamo dato all'ingresso, adesso vado da vincere, delle borse salispetre, e degli specchietti salispetre, vado con la mia mano vergine, numero 220 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 Quanto uscire è questo? Quanto uscire è questo? Quanto uscire è questo? L'estracurato! Arriviamo al massimo di 5 estrazioni! 5! Sei tu! Vabbè! Ascolta! Adesso devo raccontare le storie di questa storia! Allora, all'impresa mi ha detto che non se ne faceva un cazzo dalle borse solo in spettro! E ovviamente ha vinto lui! Brevo! Ovviamente ti potranno finire carne e tesoro! Amore al Mindo, una borsa di Stanley Spectre che viene consegnata al tavolino dell'Arc, qua fuori. Gigi! 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 Vado! Gigi Arc! Sappi che devi consegnare una borsa rosa! Ma sei qua! Gigi! Gigi sono fuori! Ora, andiamo alla prossima estrazione dell'otto! La prossima estrazione vince! Gigi! 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 1, 2, 3, 3, 1 e 3! Basta... Un altro! 4, 3, 7... ultima chiamata! Per i voli con il Spectre! Ele ne sarai un altro, basta! beast! E' stato estratto il numero 108, 108, 108, 108, 108, 108. E allora vediamo il primo vincitore, il primo vincitore che espone la sua borsa, se li spettano, la farò vedere, tesoro farò vedere, lanciala, vai! Fatti fare delle foto belle e sexy, con la tua sua botorta, me la benedico, me la benedice lei. Il numero 108 vince un'altra borsa, se li spettano, la potrà ritirare con il tavolino ARC all'ingresso del pro-fish. Ora, ultima estrazione, veloce veloce, e poi dobbiamo facciare un salto. La prossima. Tenete qui i vostri numeri, poi calma in secondo e poi riprendiamo. Allora, il mojo magico. Almeno un vibratore. 3, 6, 3. 3, 6, 3. 3, 6, 3. 2, 3, 6, 3, 2. 3, 6, 3, 1. Non è che sul numero si avvicina e mi dobbiamo fare. Vai, estraiamo alto il numero. Vai, estraiamo alto il numero. 3, 8, 8. 3, 8, 8. 3, 8, 8, niente. Non è io. Sei tu. Ancora, ancora. Ma siete tutti fanno qua? Sì. Vai un attimo, lo stracoglio questo e poi se no, buonanotte. Ma chi c'è qua? Fatevi un po'... Fatevi un po' di carica. Il numero è il 519. Ho vinto! Lascialo a vedere. 519. Allora, il 3 è l'ultimo e poi iniziamo a ballare. Ma poverini! 519! Basta! Questa! Vai, facciamo entrare la nuova e nuova. Pronti? Signor! Oh, mi sono accupato, basta! Oh no! Il numero! Uno, tre, tre! Uno, tre, tre! Non c'è! Dove c'è? Chiudiamo l'estrazione. No, chiudiamo l'estrazione. Chiudiamo l'estrazione. Questa è l'ultimo velocissimo, però, eh. Lo chiamo una volta. Lo chiamo una volta e poi non c'è più. È bravo. 2, 0, 2! No, chiudiamo la voce! No, chiudiamo la voce! E allora? Un letto Gesù ci incula sempre. Vi crediamo a mandare e tanti saluti, cante le cose! Aprici! . Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti